Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. E' stato avvertito in gran parte di Napoli, ma non ha provocato danni, lo sciame sismico che in serata ha scosso i campi Flegrei. Con una magnitudo di 3,8 è stato il terremoto più forte registrato in questa zona negli ultimi dieci anni e in alcuni quartieri la gente è in scesa in strada per la paura. L'attenzione dei sismologi e dei vulcanologi su quanto sta accadendo è costante. Il sollevamento del suolo nell'area dei campi Flegrei è in corso dal 2012 ed è costantemente accompagnato da terremoto di solito di magnitudo inferiore a 3. Questa volta la magnitudo superiore e il fatto che è stato abbastanza superficiale e è avvenuto circa 2 km di profondità hanno fatto sì che sia stato avvertito in particolare nei quartieri di Napoli più vicini alla zona di Pozzuoli, come Posillipo, Fuorigrotta e Vomero. Tanta paura ma nessun danno a persone o cose, come è reso noto il Dipartimento della Protezione Civile. Sull'area dei campi Flegrei c'è un'attenzione continua per una situazione definita dai vulcanologi da allerta gialla. Ciò significa che c'è un'attenzione scientifica continua con monitoraggio 24 ore su 24 da parte degli INGV e dell'Osservatorio Vesuviano. La situazione dei campi Flegrei ha visto una forte crisi tra il 1983 e il 1984, quando il suolo si è sollevato in modo molto rapido e il fenomeno è stato accompagnato da circa 16.000 terremoti in due anni, frequenti ma piccoli, di magnitudo inferiore a 3. In seguito il suolo ha cominciato ad abbassarsi in modo silenzioso senza che avvenissero terremoti e nel 2012 ha iniziato nuovamente a sollevarsi molto più lentamente che nel 1983-1984. Un fenomeno questo accompagnato sia da terremoti nella zona di Pozzuoli sia in mare, di circa un centimetro e mezzo il sollevamento del suolo osservato dagli esperti. Dopo le proteste dei familiari delle vittime dei pirati della strada che chiedevano un impegno per una maggiore sicurezza dei pedoni, scende in campo il comune di Napoli. Sono cominciati infatti da piazza San Nazaro a Napoli i lavori di installazione di dossi rialzati per favorire l'attraversamento in sicurezza dei pedoni in alcuni punti del lungomare, che sono stati teatro negli ultimi mesi di incidenti con esiti anche mortali. L'intervento è stato programmato dagli assessori alle infrastrutture, mobilità e protezione civile e alla pulizia municipale e alle legalità, guidati rispettivamente dagli assessori Edoardo Cosenza e Antonio De Jesu, con contributo della pulizia locale. L'amministrazione è fortemente impegnata nel costruire un sistema che possa mitigare il rischio di incidenti stradali. Abbiamo avuto degli eventi luttuosi in questo periodo, soprattutto in un'area come quella di Mergellina e come quella della Villa Comunale, dove in effetti non si era registrata statisticamente una rilevanza di cose, però abbiamo dovuto rilevare nelle cose per cui abbiamo, insieme all'assessore Cosenza, abbiamo pianificato, finanziato una serie di misure come questi dossi che rendono meno sostenibile la forte velocità da parte di motocicli, da parte di autovetture e in prospettiva noi saremo sempre attenti sulla base del database del nostro ufficio incidenti, che è un database di tutte le strade della città, per capire anche sulla base statistica quali sono le aree e i siti che meritano l'adozione di misure di questo genere. Per adesso il progetto, entro due settimane, si completerà nella zona di Mergellina e dà anche, se possibile, un ristoro a tante famiglie di residenti che hanno sempre manifestato e sollecitato l'amministrazione ad adottare dei provvedimenti. Riparte con il capolavoro di Giacomo Puccini, la madama Butterfly firmata a Fresan Ospetec per la direzione di Dan Ettinger, la stagione concertistica del Teatro di San Carlo di Napoli. Stamattina la presentazione dell'opera, che vedrà sul palcoscenico nomi internazionali della litica e talenti musicali del territorio. La rilettura di Ospetec porterà gli spettatori nel Giappone degli anni 50, con una ciocio-san forte e determinata. Una madama Butterfly, insomma, per la prima volta non identificata come la vittima, ruolo che invece viene tratteggiato sulla figura di Pinkerton, vittima di se stesso, un burrattino a tutti gli effetti. La protagonista di Ospetec è vista invece come una donna determinata, cosciente delle cose che fa, tutt'altro che fragile. A margine della conferenza stampa, le prime parole di Carlo Fuortes, nuovo sovrintendente del Massimo Partenopeo, che ai nostri microfoni annuncia due decisioni dell'ultima ora. Molti motivi per venire a vedere questa produzione, che sarà dedicata a Giovanni Battista Cutolo, e quindi il teatro, prima della prima, serverà un minuto di silenzio. Uno dei ruoli fondamentali che ha questo teatro, anche data la sua emblematicità all'interno della città, è lavorare sul sociale, dare un esempio di buona pratica civile e sociale. Quindi già si fanno molte attività nelle aree più marginate della città, ne continueremo a fare ovviamente. dovrà aumentare tutto questo lavoro, perché sappiamo tutti che la musica nel processo educativo di molte persone può avere un fattore assolutamente straordinario. in onore della morte di questa tragedia del giovane musicista napoletano, abbiamo voluto dedicare una borsa di studio a suo nome, e ogni anno ci sarà un giovane talento di queste aree marginate, che probabilmente non sarebbe in grado di sostenersi negli studi, e quindi credo che questo sia un segno che ovviamente va aggiunto a molti altri. Era stata regalata alla città di Napoli, ma il comune pensò bene di rispedirla al mittente. Oggi la statua di Maradona realizzata dall'artista scultore Domenico Sepe risorge nel cuore dei quartieri spagnoli, a due passi dal murale del Pibede Oro, in via Concordia all'interno del Tempio di Maradona. Una galleria d'arte un po' particolare, dove i napoletani e i turisti, ma anche gli appassionati di calcio, potranno ammirare l'opera d'arte, quadri, sculture, ma anche assaggiare il simbolo partenopeo per eccellenza, la pizza di cui Diego era ghiotto. La statua, scoperta dall'artista, è stata sistemata in una sorta di privé, dove ci sarà per sempre un tavolo riservato a Diego Armando Maradona, manco a dirlo, il numero 10. Si realizza il sogno, insomma, di Domenico Sepe, quello di vedere la sua opera far felice grandi e bambini. È una scultura che racconta quella parte interiore di Diego Armando Maradona, quindi noi sappiamo benissimo quanto amasse la città e probabilmente il suo destino erano proprio i quartieri spagnoli, luogo simbolo dei tifosi, del popolo napoletano e soprattutto del tifo napoletano, quindi qui c'è appunto il murales che racconta il grande legame della città con Diego Armando Maradona e quindi probabilmente era segnato nel destino che lui dovesse arrivare qui. Una statua che vuole raccontare l'eternità di Diego e che in pochi mesi di sicuro sarà la più fotografata in città, come afferma Angelo Forgione, storico e conoscitore di Maradona. Il racchio del mito, il racchio della sacralità, è un po' il compendio di tutta la napoletanità, questa è la città del Cristo, la città della Sirena, quindi un po' sacralità e un po' mitologia. Diego incarna un po' questo paradigma contemporaneo, cioè la mitologia dell'uomo che si è incarnato in qualche modo come eroe di Napoli, ma che nella sua normalità, nella sua carnalità di uomo terrestre, poi aveva i suoi problemi, però è riuscito a fermarsi come eroe cittadino e incarna proprio queste due valenze che Napoli in qualche modo detiene dalla sua nascita, dall'origine di Partenope. C'è un nuovo museo in città, diverso da tutti gli altri, un museo basato sull'inganno e l'illusione della mente umana, un'esposizione di opere basate sulla distorsione della realtà. In una delle chiese meno conosciute della città, quella delle Crocelle ai Mannesi, in zona Forcella, ha inaugurato a Napoli il Museo delle Illusioni. Unico nel suo genere consiste in 70 installazioni che dimostrano al pubblico come spesso la mente possa essere facilmente confusa dalla vista, dal vaso di Rubin al vortice del tempo, dalla stanza invertita, il pozzo senza fondo, fino alla realtà virtuale. Grande successo di pubblico per la prima uscita ufficiale del museo, la cui apertura ha incuriosito anche l'ex sindaco Antonio Bassolino. Patrocinato dal Comune di Napoli, il Museo delle Illusioni è organizzato dal gruppo internazionale Exhibition of Illusion, di cui fanno parte l'esperto di esposizione internazionale Vicente Gonzales e il promotore dell'iniziativa Lorenzo Cantini. Si comincia a una parte scientifica, poi si cerca gli artigiani che chiaramente ha ognuno il suo per fare il suo lavoro, perché chi ha la legna della legna, chi ha l'argento in materiale ferroso fa quello. È molto difficile perché lì ci vuole qualcuno che sappia anche di fisica, perché a livello artigianale si è facile, però ci vuole qualcuno che gli dia le misure adatte per arrivare al punto, non è facile, è stato molto difficile. L'illusione è una mostra, diceva, ingannevole, che i nostri sensi vengano ingannati e che si percepisce le molte volte falseato dalla realtà. Con le fotografie la gente la vede delle immagini che a vista così d'occhio sembrano reali, ma non sono ingannevoli. La mostra dell'illusione è una mostra della chat, dello scientifico, perché è altamente scientifico, e del divertimento per i bambini e anche per gli anziani, per la gente in generale. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci. Grazie.